e allora io vallai carocca quando volete 100.000 euro no facciamo 70 70 va bene ma va basta 70 ma la mia ma c'è come ed è morto di fame facciamo una cosa quando io sto scritto finemola quanto vuoi sta pensando io qui tu quanto vuoi 100.000 euro da un gamba da legno 50 e 50 una penna mi serve una penna con centina subito una penna eccola qui grazie signorina ma questa cosa è bella grazie a pancettina non se fanno queste cose minchia 100.000 euro basta 50 e 50 basta basta allora allora non mi sta a salire concettina 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 si in linea voleremo stuzzicare la dente subito ce l'ho io o segno portare i pezzi subito 50 e 50 se no ti uccido ben fatto ma che uccidere? la minchia deve uccidere mute ora turco di menta ora eccoli qui don gamba di legno ora brindiamo concettina è bello concettina versi per favore il vino nel mio bicchiere ma questi qui sono i bicchiere di don gamba di legno e del signor calurio altri due bicchiere allora vai a prendere altri due bicchiere subito tappi mano comando io a concettina se la prossima volta è che lei mi fa così ci siamo capiti a questo punto prendiamo con concettina si bicchiere subito stai muore stai muore stai muore le pillole nel cuore le pillole nel cuore venga 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 apre la tua Eccomi, non faccio anermi per il suo cuore, sa com'è? Molto fragile. Venga. Venga. Mentre voi ci ripeto, chiave. Venga. 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 Arresti. Con permesso. Sollte. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.